Con la stagione estiva oramai alle porte gli operatori turistici di Alba Adriatica sono fortemente preoccupati, questo soprattutto a causa dell'erosione e delle mareggiate che hanno portato via la spiaggia in particolare a nord del comune costiero Terramano. La riapertura degli stabilimenti balneari paventata dal governo per il 15 maggio per molti operatori a queste condizioni non sarà possibile, visto che i balneatori non hanno ancora certezze su quanto areni lavranno a disposizione e di conseguenza di quanti ombrelloni potranno piazzare e affittare ai turisti. Ci troviamo nell'impossibilità ancora oggi di poter gestire quella che è un'accoglienza turistica vera e propria. Nella parte nord del nostro paese dove è forte il fenomeno rosivo non sappiamo ancora quale opere vengano fatte. In più anche l'amministrazione dovrebbe darci quelle che sono le nuove misure per gli ampliamenti che dovrebbero concederci per avere quantomeno il numero degli ombrelloni, la possibilità di poterli affittare e dare delle risposte a chi quotidianamente ci chiama per poter venire al mare ad Alba Adriatica. Di tutto questo non si sa ancora nulla e sinceramente a 20 giorni all'apertura della stagione balneare mi sembra che un paese come Alba Adriatica questa cosa non se la possa permettere. Noi abbiamo più volte sollecitato gli organi competenti ma sembra che tutto quanto venga a tempo e secondo noi questa è la cosa più sbagliata per programmare una località turistica come la nostra. Ripascimento che diventa quasi impossibile per l'estate visto e considerato che i lavori ancora non partono. I ripascimenti noi stiamo ancora a quelle che sono le ultime notizie che vengono dalle parti alte della regione Abruzzo quindi si parla di una spiaggia di alimentazione che era stata approvata ma che richiede 13 settimane di cantiere. Questa cosa sembra purtroppo secondo noi impossibile. Siamo nell'attesa anche di poter vedere effettuati due ripascimenti importanti di 16 mila metri cubi e il ripascimento che l'anno scorso non è stato effettuato di un altro 12 mila metri cubi. Abbiamo d'altro canto una buona notizia che l'amministrazione ha avviato il procedimento per poter garantire un mini ripascimento di 150 mila euro di 5 mila metri cubi all'incirca che è un granello di sabbia sembra una battuta ma almeno qualcosina potrebbe essere ma sicuramente non potrà ristorare quello che è il grave problema che abbiamo soprattutto nella zona nord.